E quest'anno il primo premio assoluto del nostro concorso più che cinquantenario va in Cina, a Tzu He della scuola secondaria School of Creativity di Hong Kong in Cina. Vince quest'anno il primo premio assoluto, a riprova che il nostro concorso è davvero internazionale, il disegno di Tzu He, giunto da Hong Kong in Cina. Pregevole è l'uso di tempera ed acrilico brillante, che crea un notevole effetto vetrata, mixando insieme le varie immagini di Gesù e Maria, un coro angelico, e stilizzando sullo sfondo proprio una bella vetrata.